Benvenuti a Terra Madre, siamo qui con Manuela della Davide Appendino, uno dei grandi nomi del cioccolato che fa parte della rete Maestre del Gusto. Fra l'altro siete stati confermati, quindi complimenti. Manuela, una domanda che stiamo chiedendo a tutti i tuoi colleghi. Cosa vi ha portato a livello aziendale come vantaggi far parte della rete Maestre del Gusto? Allora sicuramente far parte della rete Maestre del Gusto per noi è un grande onore perché comunque significa che la nostra produzione, i nostri prodotti, il nostro metodo anche di lavorazione segue tutti i principi che sono stati stabiliti da voi. E ci porta a un grande vantaggio anche a livello promozionale perché possiamo partecipare a manifestazioni, siamo riconosciuti sul territorio, i clienti vengono a cercarci. E soprattutto i clienti che non conoscono magari il progetto Maestro del Gusto, i turisti soprattutto, trovano in questa nomina un valore aggiunto e quindi dà un valore aggiunto anche al nostro prodotto. Voi avete una bottega, la conosciamo tutti noi trenesi in via Cavour, producete cioccolato in Borgo Vittoria, quindi centro e periferia. Ecco ma a tuo parere cosa significa oggi produrre cioccolato in provincia di Torino e rappresentare anche diciamo una riqualificazione urbana attraverso il cibo? Allora il cioccolato produrlo in Torino è un significa tradizione perché comunque la famiglia di Davide produce cioccolato da 50 anni. Quindi fa parte della storia della nostra famiglia, della nostra azienda. Sicuramente avere il laboratorio in una zona anche periferica della città fa sì che anche la periferia abbia un ruolo importante all'interno del commercio e dell'economia della cittadina. Poi ovvio che il negozio in centro è una grande vetrina per il turismo, per tutti i torinesi. Ti ringrazio Manuela, complimenti e buona terra madre. Grazie, grazie a voi.